Piacenza vince 3-0 a Monza, una vittoria fondamentale, vittoria con sorpasso e soprattutto una partita molto, molto solida. Queste sono le partite che danno un senso a una stagione, no? Tra noi e loro è stata una buona stagione e queste sono le partite che danno qualcosa in più per cercare di dare un senso importante a una stagione. Non abbiamo fatto neanche nulla perché dobbiamo pensare a Milano. Siamo molto contenti, ci siamo allenati veramente tanto, bene, c'era un clima positivo. La cosa più bella di questa partita è stata la nostra relazione sul secondo set, quando siamo andati sotto non l'abbiamo mollato. Perché con una squadra come quella di Monza non puoi permetterti di regalare nulla. Dopo una stagione di rincorsa, adesso questo finale è in crescendo, ma allora dove volete arrivare? Il nostro obiettivo è arrivare quarti, per avere la possibilità di giocarci la semifinale, ma questo è un campionato strano. Modena non potrà arrivare né quarta né quinta, ma sicuramente il playoff farà bene. Milano ha avuto problemi di covid, ma adesso sta recuperando. Quindi staremo a vedere anche cosa succederà nelle prossime partite. Ora, la testa a Milano, che cosa dovrete fare per continuare il vostro momento? Noi dobbiamo giocare come abbiamo giocato oggi. Poi se gli avversari giocono meglio, sono più forti, complimenti a loro. Noi abbiamo trovato un nostro equilibrio, un nostro livello di gioco e dobbiamo continuare a mantenerlo.